ciao a tutti e benvenuti a gioca con me giochi per bambini allora oggi sono qui con qualcosa di Monster High ed è il circo mostruoso con Rochelle Goyle questa fantastica protagonista pronta al suo photo shooting e qui dobbiamo ovviamente costruirlo allora i primi pezzi assemblati questa tenda del circo qui abbiamo un altro pezzo il ritratto ovviamente della nostra protagonista nel circo Rochelle poi abbiamo questa lanterna particolare per la luce sapete gli effetti di luce nei photo shooting sono la cosa principale qui abbiamo il palco con un altro sipario e l'altaliena della nostra Rochelle perché è lei la protagonista di tutti gli spettacoli ovviamente che può stare veramente vedete in piedi con aria un po triste oppure può stare anche comodamente seduta aggiungendo ovviamente la seduta dell'altalena molto molto meglio cosa ne dite decisamente quindi questo è il circo mostruoso della nostra Rochelle facciamo una panoramica qui in alto vedete che abbiamo addirittura il filo sul quale camminare in equilibrio tipico del circo qui abbiamo uno specchio e poi ovviamente possiamo vestire la nostra Rochelle con vari accessori per il suo super photo shooting ecco qua la nostra Rochelle Goyle vi saluta il suo circo mostruoso va in tour e quindi ci vediamo presto ma intanto voi lasciateci un like se il video vi è piaciuto ciao a tutti